La pasta Bignè col sistema RoboCubo, conosciuta in tutto il mondo per raccogliere creme dolci e salate. Con dei ingredienti molto semplici, abbiamo dei liquidi, della materia grassa, del sale, successivamente aggiungeremo della farina e delle uova. Questo tutto con il programma RoboCubo. Abbiamo la possibilità di fare tutto all'interno della vasca. Un altro valore aggiunto del sistema RoboCubo è che ci permette di aggiungere gli ingredienti nella fase che noi desideriamo. In questo caso, parlando di pasta Bignè, dobbiamo aggiungere la farina. Ottenuta la pregelatinizzazione degli amidi, non ci resta che fare un'emulsione perfetta. Aggiungiamo le uova tutte in una volta e, grazie a un sistema perfetto RoboCubo, otteniamo un'emulsione perfetta. Realizzata la nostra pasta Bignè, emulsione perfetta, è pronta per essere stesa e cotta in forno e poi, naturalmente, farcita. Vi ricordo che abbiamo sporcato solo il RoboCubo, non altre pentole, un valore aggiunto e in pochissimo tempo. Pronti i nostri Bignè per essere cotti dolcemente in forno. Eccoci qua, Bignè pronto, il risultato parla da solo.